Sì, con gli assessorati cultura e spettacolo abbiamo definito il programma sia del giorno della memoria sia del giorno delle foibe che sarà il 10 febbraio e il 27 giorno della memoria ci saranno delle ragazze del centro di formazione di danza che si esibiranno con un'opera sul volto creata da me. Volevamo fare una cosa molto leggera che si distinguesse dalle altre performance, quindi ho deciso di selezionare alcune ragazze per fare questa danza artistica. Il 10 febbraio arriverà un artista siciliano molto importante, vorrei che fosse una sorpresa il nome e anche lui però farà un'esposizione di tele e di volti monumentali che ricordino il giorno delle foibe. Il 10 febbraio.